Salve ragazzi, siamo di nuovo tornati con Assassin's Creed Syndicate, siamo nella sequenza finale, abbiamo fatto il primo incarico per Rot, ripulire la stazione di San Pancras, adesso attiviamo il ricordo, triplo furto, vediamo cosa è in mente, questo ma scalzone secondo me, perché lui sta facendo qualcosa che mira aumentare il suo di potere, non tanto il nostro, noi siamo secondo me delle pedine in mano sua, quindi presto o poi lui ci tradirà secondo me, no ragazzi non ve lo sto dicendo tanto perché sono sicuro di quello che accadrà, ma sto ipotizzando, semplicemente, aspettate un attimo, ok, ok è partito, semplicemente perché liberandoci di Star Rick noi saremmo l'unico ostacolo tra lui e il controllo di Londra, quindi lui alla fine secondo me ci vorrà pugnalare le spalle, vorrà liberarsi di noi, vediamo questo tripolo furto cosa ci mostra, infatti Jacob e Rot intendono catturare tre alleati di Star Rick e per liberare il quartiere dal suo controllo, bene, caro signor rotta, che cosa è in mente? Jacob, è stupendo, non è vero? Ho pianificato la nostra prossima impresa, davvero? Dovremmo fare un prelievo, tre degli uomini di Star Rick stanno per scomparire, siete il inizio, non è vero? No, e verrò anch'io stavolta, non ha senso cedervi tutta la gloria, in carrozza adesso! No, troppo buono, non ti fidare caro Jacob, non ti fidare! Non uccidere nei luoghi dei bersagli, non lasciare fuggire i bersagli, ho l'impressione che qualche obiettivo di questo lo falliremo! Sono gli Star Rick che si sono costruiti delle prigioni, è un terribile spredo! Non potevano formare delle band? No, no, perché darsi tanta mena quando puoi volare come il vento? Non sono degni degli obiettivi! Oh, certo che no, certo! E il vostro corvo? Uh, Ginkana! Ok, bastiamo un po' quel volume e andiamo! Ah, parla! Ma che fai, che fai? Sto cercando un miscatuolo! Non l'ho vista, però so che sta facendo! E sarebbe? Stai quando, signore! Ha preso una statua qui vicino! Mmm... La statua del segno nei paraggi! La statua delle segno nei paraggi! A mano! Accupito! Un polso! Vieni tu! Mal il tuo valore! Mal il tuo valore, Poi ammiglio! Ammiglio! Non lo road! Dove è lì! Sì! Sì! Dio mi mi fa! Dobbiamo fare vedere. Se lo stordiamo. Non lo sto uccidendo, quindi non dovrebbe... Ok. Grazie, spione. Ma certo, nelle foglie. L'accesso... Cazzo, 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 cazzo. Va bene, non dovrebbe entrare lui. Però non possiamo uccidere, ricordiamocelo. Infatti qua già cominciano ad esserci dei bersagli. Non dobbiamo uccidere, ragazzi. Ah, qua è dove abbiamo affrontato la prima volta Jackie Saltatore. No, 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 no. Uh, 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 mochia, cazzo. Aspetta, corri, 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 corri. Non ti farei vedere. Usiamo le bombe fumogene, usiamo. Niente, possiamo usare solamente questo. Non abbiamo altri armi, magari dar di soporiferi, niente. Ha visto quello che ho stordito. C'è l'altro. Andiamo, dai. No, non mi vede perché la linea di visuale è pulita. La linea di visuale è pulita. Ora qua tiriamo la bomba fumogenea. e li passiamo. Vediamo se funziona. Non ti girare. Wow. Ok. Uh, poverina. Ci sono quei due. Aspetta, aspetta, aspetta. Vediamo se ti riesco... Aspetta, aspetta. Riduci, riduci. Ok. Perché l'è troppo rischioso. Si sta avvicinando quello di dietro. No. Io non ho uno a ore sei. Non ne ho più. Ok, ragazzi. Ne dobbiamo fare tre ne dobbiamo fare. Quindi questa è andata bene. Poi gli altri dobbiamo vedere. Perché non devo farli fuggire. quindi non devo... Ma neanche farmi vedere. Bene, bene, bene. Oddio, mi sta venendo da star nutire. La maledizione. Bene, dobbiamo fare la stessa strada. La stessa strada... Ah, di là. Minchia, dobbiamo attraversare questo. Ma il cancello qui è chiuso. No, 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 no. A questo punto. Ragazzi, questa parte non ve la... Perché ormai siamo fuori. Dai, dovevo trovare semplicemente la strada per riportarla alla carrozza. Piccolo, diciamo, pausa. Appena la carico nella carrozza riprendiamo la registrazione. Sì, ok. Allora, ragazzi, siamo passati al secondo bersaglio. Abbiamo caricato la nostra piccola ladruncola. Dobbiamo adesso rapire il capo della sicurezza. È nel parco. Quindi la zona sarà abbastanza sorvegliata e più difficile sarà nascondersi. Aspetto un attimo. Ma è la carrozza? Perché c'è questo? Ah, no. Significa che l'oro è la ronda. l'eronde. Ce n'è più di uno. Cazzarola. Porca miseria. Bene, questa non sarà una passeggiata. Ah, molto bene. Però il parco non è. Non è, non è, non è. non è un'area. Quindi dobbiamo stare attenti solo alle, alle carrozze. Mettiamoci lì. niente, non dobbiamo farci vedere solo da lui. non è tanto facile. Assolutamente. Non posso creare dei diversivi. Assolutamente. Perché lui sta vicino sempre alle guardie. dovremmo andarci ora. Ok, vediamo. Come va, va. Come va, va. Porca miseria. Si è avvicinato troppo a questi. Si è avvicinato troppo a quelli. Lo dovevo beccare in quel momento. Porca miseria. Aspetta, andiamoci a, andiamoci a nascondere. Ok. Tutti sono girati. Proviamo, proviamo, proviamo. Bastardo sei! Sei un gran bastardo! Daaa! Che cavolo! Dai, 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 dai! Wow! Aspetto! Vi manda Rob, quel bastardo! Da bastardi ci si intende, Rapples. Ma il vero bastardo qui è il vostro padrone. Allora, ragazzi, dobbiamo vedere... Quella è un'uscita? Sì. Prendiamo di lì. Prendiamo di là. C'è un fiore. È un fiore pressato. Niente, per me si può... Può rimanere pressato lì dov'è. Se premio cerchio, lo lascia. No, non mi dire che questi sono messi davanti all'entrata. Non mi dire, non mi dire, non mi... Porca miseria, sono troppo vicino all'entrata. Non ci posso passare accanto. No. Vabbè, ragazzi. Ok, devo fare tutto il giro lungo. Quindi lo carichiamo sulla carrozza e riprendiamo con l'ultimo bersaglio. A dopo facciamo piano piano. Ragazzi, siamo all'ultimo bersaglio. Non immaginerete... Eh, cazzo, ste carrozze di merda, sempre a mezzo ai piedi. Siamo a Scotland Yard. Dobbiamo ravire il bersaglio a Scotland Yard. Proprio nel... Nella tana del lupo. Attenzione. Ok, là c'è una finestra aperta. Poi la parte più camurrusa sarà muoversi. Non tanto andarlo a raggiungere. Ma muoversi all'interno di Scotland Yard con lui in mano. Oh, oh, oh. Cazzo, dove ti metti? Sì, guarda, guarda. Spero che quello rimane lì a guardare, non si muove. Bene. La parte più difficile avviene ora. Siamo obbligati. Oh, invece sì. Dove mi state portando? Un amico ci tiene a farvi un saluto. No. 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 Il poliziotto davanti alla porta. Il poliziotto davanti alla porta. Bastardo. Non posso passare. Non posso passare. Ok, di qua. Veloci, 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 veloci. Sono in campana. Sono circondato. Lo vedo dal radar. Ce n'è uno proprio vicino a me. La carrozza è, la carrozza è, tu, stronzo, stronzo, levati di qui. Sì. Ok. No. Ma siete proprio dei... Che bastardi mi state facendo girare mezza... Ora vediamo, magari tu mi vedi incontro. Lì è chiuso. Dobbiamo prendere, dobbiamo fare il giro... Il giro lungo. Più piano. Voi due rimanete lì a chiacchierare. Ok, ci manca che questo qui... Ok. Io ve l'avevo detto che questa era la parte... Il ritorno con lui era la più difficile. Sì, va bene, aspetta. Facciamo passare a questi. Facciamo passare. Uno... Fermati qui. Fermati. Manca poco, manca poco, ragazzi. Manca poco. Manca poco. Ok. Dai, finocchione. Dai, vati dal cancello. Vati dal cancello. Vai, vai, vai. Vai a fare il creativo... Sì, gridala ai 4-20. Ci sono i poliziotti qua e gridi. Vi siete lasciato andare. Peccato. Ora, salite pure dietro. Wow. È andata. Perfetto. Abbiamo fatto il 100%. E che c'è? Forza, levatevi dalle palle. Bene. Non voglio dirlo, ma... Anzi, lo dico, lo dico. È andata molto bene. Sì, ci è finita bene. Siamo stati bravi, dai. Ma questo è stato bello, dai. No, niente male, come ricordo. Bravo Jacob, bravo io. Dai, ragazzi, i like qua voleranno i like. Il gameplay è stato dei migliori della serie. Ok. Diamoci un bel 5 stelle. Vediamo quello che succede. No, non succede nulla. Ok, ragazzi. Spero che il video sia stato di vostro gradimento. Andremo a fare dei rifornimenti. Aspetta, spaventiamo, spaventiamo, spaventiamo. Boom. Dai, chiudiamo il video combattendo, dai. Forza. Che cretinate, però, ragazzi. Dai. Sparo, in mezzo a quello rimane. Oh, ma che è successo? Vabbè, ragazzi, dai. Al prossimo ricordo e vediamo cosa ha in serbo per noi il nostro caro vecchio Rot. Alla prossima. Ciao. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima. Alla prossima.